l'emotività dell'informazione italiana ecco questo è il vero punto forse dolente ma che riguarda di qui il passaggio a un altro medium la televisione soprattutto la televisione il nostro il giornalismo italiano giornalismo che è più emotivo che analitico qui si davvero il new york times il guardian le mondi giornali tedeschi alcuni giornali spagnoli tendono avere uno un modo di raccontare i fatti che mette l'analisi dei fatti al primo posto e poi il racconto emotivo i talk show italiani sono pieni di storie pieni di racconti e l'analisi tende a essere sempre avversariale cioè schierare due parti una contrapposizione perché è una dinamica che in televisione funziona che però fa pagare un prezzo in termini di comprensione razionale dei fatti viviamo in un'epoca di sovra informazione siamo bombardati da continue notifiche dati cifre titoli quello che sembra mancare però è il tempo di rimettere tutti questi elementi in un contesto più generale unire i puntini e provare a capire il prima e il dopo la dimensione meno istantanea dei grandi temi nel nostro tempo il clima i diritti l'informazione l'economia io sono giuseppe laterza e questo è radar podcast degli editori laterza radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità rimettere ordine e orientarsi oggi siamo tutti invasi di informazioni sull'ucraina un po come quando iniziò la pandemia nei primi mesi del lockdown siamo esposti a tante immagini a dati aggiornamenti costanti certe volte quasi verrebbe a dire ossessivi interviste opinioni analisi e poi ciascuno di noi apre il proprio smartphone chi ne ha uno e c'è un'informazione parallela quella del proprio profilo che arriva attraverso i social di video magari non verificati un flusso incessante di notifiche che ci arriva si mischia alle cose che facciamo tutti i giorni senza un ordine senza linee di demarcazione senza tregua tutti competono per la nostra attenzione ma ognuno ci informa in maniera diversa e ci informiamo in maniera a ciascuno diversa all'interno della propria bolla come si dice chi è pronato chi è anti americano chi a destra chi a sinistra chi è favorevole agli armamenti che invece è un pacifista altranza insomma in tempi di guerra tutto questo si intensifica ancora di più in una gara all'ultimo dettaglio e anche alle emozioni alle emozioni forti l'altro giorno un amico giornalista mi diceva che è giusto emozionare per informare perché non basta dare i numeri di una guerra ma bisogna dare anche le immagini certe volte anche cruente perché questo sensibilizza smuove crea empatia ma qual è il limite qual è deve essere il ruolo dell'informazione in tempi di guerra e come possiamo informarci nel modo migliore però senza diventare appunto ossessivi senza rischiare la sua fazione magari all'orrore di un conflitto in questo episodio ad aiutarci a dipanare i fili di questa questione molto complicata abbiamo invitato giorgio zanchini un giornalista della rai che ha condotto rubriche radiofoniche e televisive di grande successo e di approfondimento come radio anch'io quante storie e che da anni studia il giornalismo sia attraverso i libri ricordiamo soltanto tra i vari libri leggere cosa e come il giornalismo e l'informazione culturale l'età della rete condonzelli ha fatto con la terza un volume con giovanni solimine sulla cultura orizzontale dedicata ai giovani e poi dirige un festival del giornalismo culturale a urbino ciao giorgio grazie per l'invito ciao a voi dunque partiamo dall'inizio allora in questo momento nel mondo ci sono come sappiamo tante guerre decine di conflitti armati anche con centinaia volte migliaia di vittime però di queste guerre per la stragrande maggioranza sappiamo veramente poco certe volte nulla e ci sono invece casi in passato quello siriano in certi momenti e certamente oggi quello ucraino con una sovrabbondanza di copertura mediatica ecco la prima cosa che vorrei chiederti giorgio cosa rende una guerra più mediatica di un'altra perché di questa guerra si parla così tanto provo a dare tre risposte ma forse saranno soltanto due perché la prima risposta è quella più istintiva che peraltro leggiamo anche nei manuali di giornalismo ci sono sempre ragioni geografiche e di interesse impatto sull'esistenza di ciascuno di noi geografiche perché l'ordine di attenzione che noi poniamo ai fatti del mondo quelli ai quali il sistema mediatico dà significato e che per noi hanno significato in realtà ci dicono di nuovo i malari giornalismo in primo luogo sono mossi dalla vicinanza con i nostri interessi cioè non so tu personalmente o chi ci ascolta e ci ascolterà come procedere alla lettura dei giornali o nell'ascolto del della telegiornale o del giornale radio che in realtà hanno una gerarchia ma quando noi apriamo un quotidiano siamo noi stessi a scegliere quali pagine leggere per prima insomma noi sappiamo che sempre le notizie locali di cronaca locale sono quelle che interessano una percentuale molto alta eh di lettori lettrici ascoltatori ascoltatrici di qui il primo criterio cioè quello del quello geografico e cioè quanto un evento un fatto informativo un atto informativo è vicino a noi ai nostri interessi e quindi anche le guerre rispondono a questo criterio per cui noi ci occupiamo almeno credo di Ucraina eh più di quanto ci occupiamo di Yemen e la nostra attenzione va all'Ucraina più di quanto non faccia con lo Yemen per una ragione puramente geografica l'Ucraina è un paese molto vicino a noi con il quale abbiamo un rapporto molto stretto in Italia ci sono mi pare 250-260 mila ucraine e ucraini prima dell'inizio della guerra adesso se ne sono aggiunte 100 mila è il paese europeo nel quale la percentuale di ucraini fuori dall'Ucraina a parte la Polonia è la più alta d'Europa e quindi c'è un interesse diretto quindi il criterio geografico è il primo credo che muova poi i media e coloro che dicevano notizie i fruitori delle dell'informazione l'altro è quello dell'impatto sulle nostre vite quando una guerra ha un impatto diretto o indiretto sulle nostre vite i media tendono a occuparsene tu hai citato la Siria la Siria non è tanto vicina però ha avuto un impatto diretto sulle nostre esistenze perché quella guerra ha generato un flusso di migranti enorme che sono arrivati in Europa e di qui anche la preoccupazione e gli interessi dei cittadini italiani in primis quelli tedeschi che sono stati il paese di maggiore accoglienza ma anche dei cittadini italiani rispetto agli effetti di quella guerra poi una guerra suscita la nostra attenzione se ha un impatto economico e l'Ucraina da questo punto di vista ha un enorme impatto economico perché spesso le guerre nella fattispecie in una maniera evidente generano delle sanzioni che possono avere una ricaduta sull'economia interna questo è un altro dei criteri che poi spingono i media a occuparsene più o meno a questi criteri di ordine generale chiamiamoli così poi Giuseppe io ne aggiungerei un altro che è per così dire la torsione politica che qualsiasi guerra genera quale più e quale meno l'Iraq ne ha avuta una enorme l'Ucraina ne ha uno gigantesco perché il rapporto con la Russia è un rapporto politicamente molto sensibile in tutta Europa ma in Italia direi in maniera particolare perché alcuni nostri partiti e movimenti hanno avuto un rapporto con la Russia piuttosto stretto l'Italia è uno dei paesi che ha in tessuto rapporti molto stretti con la Russia devo dire che anche la Germania non è da meno se leggiamo abbiamo letto le polemiche di questi giorni sul ruolo di Gerhard Schröder dopo l'intervista che ha fatto al New York Times quattro cinque giorni fa tradotta da molti giornali europei da qui da noi dalla stampa anche la Germania ha questa questione politicamente sensibile e questo significa che i nostri giornali nel nostro sistema mediatico usa anche quell'argomento per riflessi effetti di politica interna e questo lo misuro io ad esempio che conduco una trasmissione radiofonica ogni giorno perché mi rendo conto che certi argomenti e l'attenzione che viene portata dagli ascoltatori su certi profili è figlia del loro modo di leggere la politica italiana anzi direi in maniera più esplicita del loro orientamento politico di chi votano perché il modo in cui loro si pronunciano rispetto a questa guerra è figlio della loro struttura mentale appunto del del loro modo di leggere le cose della politica poi c'è una terza questione un terzo modo di leggere questi fenomeni che riguarda anche purtroppo questo è forse il più triste degli degli argomenti l'importanza geografico politica economica dei paesi in cui si svolgono i conflitti eh tu davi quel dato quarantaquattro conflitti a mio avviso io che faccio giornalista potrei enumerarne al massimo quindici venti ma altri nemmeno li ricordo probabilmente nemmeno li so nemmeno li conosco e figuriamoci chi non lo fa professionalmente e non finisce nel nel bacino di attenzione nell'occhio mediatico semplicemente perché sono paesi troppo lontani da noi con interessi economici che non impattano assolutamente sul nostro mercato che significa anche il mercato dell'informazione e quindi la terza ragione è quella più amara di tutte ti vorrei chiedere anche dal punto di vista soggettivo di un giornalista cosa vuol dire trovarsi improvvisamente in una scena mediatica completamente cambiata cioè un giornalista in particolare come te abituato a seguire attualità più diversa dalla politica l'economia la società la cultura e poi a un certo punto succede un fatto enorme drammatico che occupa il 90 per cento se non in alcuni momenti il 100 per cento del panorama informativo peraltro su un paese che si certo come tu dicevi è vicino ma in realtà di cui poi gli italiani sanno ben poco ecco come cambia il tuo lavoro nel raccontare i conflitti diciamo un conflitto che scoppia in questa maniera cioè ci sono delle regole che che rimangono cambia tutto cambiano i parametri con cui si organizza il proprio lavoro insomma che cosa vuol dire per un giornalista improvvisamente doversi occupare di un fatto come questo questa è una risposta che ho tentato di dare anche in quel saggio collettaneo in cui abbiamo riflettuto proprio con un saggio la terza a più voci sul come sarebbe stato il mondo dopo il covid il mondo dopo la fine del mondo e all'interno di quel breve articolo io provavo a riflettere su che cosa era successo con il covid perché prendo subito di petto la questione covid perché in realtà oramai nella mia lunga vita professionale ai microfoni mi è capitato spesso come dicevi tu di eh dover parlare di io parlerei più che di guerre di eventi che hanno avuto un impatto mediatico e quindi informativo enorme qui me ne ero segnati ed elencati alcuni la guerra in angloslavia eh l'irac due volte la guerra in afghanistan guerre che abbiamo coperto meno ad esempio quelle africane in ruanda però la libia ha già insomma ha destato la nostra attenzione guerre di precedenti intromissioni russe definiamole così pensiamo pensiamo alla georgia pensiamo alla crimea cambia tutto cambia il lavoro a seconda dell'importanza e dell'impatto che ha quella guerra come come suggerivi tu e però devo dirti che rispetto alla copertura che stiamo dando e che poi secondo me sarà utile insomma sarà utile tornare su questo punto perché quanto il sistema mediatico italiano rispetto agli altri paesi europei copre un evento come la guerra in ucraina credo sia interessante perché gli italiani tendono i giornali italiani per mille ragioni a dare una copertura superiore cioè in termini di più pagine rispetto ad altri tradizioni giornalistiche europee però il punto qual è che l'impatto che ha avuto il covid questo scrivevo nel nel saggio all'interno del mondo dopo la fine del mondo è stato talmente soverchiante per noi giornalisti che questa guerra che pure ha di nuovo effetti e conseguenze enormi sullo scardinamento dell'agenda informativa tradizionale eh devo dire che quello ha cambiato tutto perché lì davvero per mesi per mesi in ragione di quello che è successo e in ragione soprattutto del lockdown che imponeva alle popolazioni di stare a casa è stato la il solo argomento di attenzione pubblica cioè io ricordo settimane settimane se non mesi Giuseppe in cui la scaletta era interamente dedicata al covid interamente lì sì che la monotematizzazione che il covid aveva imposto era una novità assoluta cioè a me nella mia vita professionale non era mai capitato né con l'undici settembre né con le guerre in Iraq e in Afghanistan né con la stagione terribile degli attentati terroristici ehm del terrorismo islamico in Europa di dare una copertura così totale come ci è accaduto con il covid quindi questa guerra sì ha cambiato la gerarchia delle notizie e ha monopolizzato l'attenzione pubblica e il modo in cui lavoriamo ma non come l'ha fatto il covid per quanto riguarda questo aspetto di cui parlavi della abbondanza informativa italiana rispetto anche ad altri paesi abbiamo ascoltato l'opinione di Giovanni De Mauro il direttore di internazionale che è il settimanale che ci riporta una selezione proprio di quello che si dice si scrive sui grandi giornali stranieri e la risposta è molto interessante come sempre quando si parla di mezzi di informazione è difficile generalizzare possiamo dire che rispetto al modo in cui la gran parte dei giornali italiani sta seguendo la guerra in Ucraina i giornali di alcuni paesi europei in particolare Spagna Francia Regno Unito e Germania e all'interno di quei paesi i giornali di riferimento quindi il paese in Spagna le mondi in Francia il Financial Times o il Guardian Regno Unito dedicano quotidianamente al conflitto decisamente meno pagine puntano cioè molto sulla selezione e sulla qualità dei singoli articoli più che sulla quantità o sulla loro varietà e perfino nelle prime settimane di guerra lo spazio dedicato all'invasione dell'Ucraina non ha mai superato le sei o le otto pagine contro le venti e più pagine in Italia e questa è certamente la differenza maggiore quella più rilevante o che comunque salta agli occhi ecco quello che dice De Mauro mi sembra coincide con quello che tu ci dicevi e la prima domanda è semplicemente perché secondo te c'è questa sovrabbondanza informativa in Italia rispetto agli altri paesi però poi vorrei chiederti di aggiungere anche un commento più qualitativo cioè a me pare che la nostra informazione particolarmente la televisione è molto suggestiva ma anche i giornali che mettono grandi foto grandi titoli nove colonne si sono poi naturalmente i dibatti di talk show le analisi però c'è moltissimo un'informazione come dire di testimonianza e quindi nella guerra di testimonianza terribile tragica di persone che soffrono e l'impressione è che questa non è neutra questa informazione così emotiva può avere una conseguenza sull'opinione pubblica può avere conseguenze paradossalmente opposte può portare al fatto che uno dice facciamo di tutto per farlo finire fino a entrare militarmente nel conflitto fino invece a quello che provoca una certa suefazione cioè l'idea che basta non ne voglio più sapere non posso vivere quotidianamente la mia normalità e avendo ogni minuto queste immagini terribili ecco come dire entriamo nel vivo del tema quindi quantità da una parte ma anche qualità dell'informazione cosa vuol dire e qui potremmo discutere per ore e ore immagino che anche tu abbia delle riflessioni da da consegnare a questo incontro provo anzitutto riprendo quello che diceva de mauro aggiungendo che non mi stupisce affatto la considerazione faceva direttore di internazionale perché primo c'è un dato molto semplicemente fattuale numerico che riguarda la foliazione cioè molti giornali italiani sono più lunghi in termini di numero di pagine appunto la foliazione rispetto a alcuni dei grandi giornali europei basterebbe pensare a le monde o al paese il nostro corriere della sera è un giornale molto lungo eh repubblica e la stampa si sono accorciati dal punto di vista delle pagine ma in generale la nostra è una stampa primo sovrabbondante cioè abbiamo un numero di giornali enorme superiore a molti perdono soldi ma insomma ora non facciamo un discorso di mercato editoriale facciamo un discorso di contenuti che quelle pagine devono riempire e eh se ci facciamo caso diceva de mauro eh nella sulle mondo sul paese sei massimo otto pagine sono dedicate alla guerra su quella della sera dipende dai giorni ma insomma nei giorni eh alle nostre spalle ma anche oggi molto semplicemente qui di fronte a me un po' di giornali italiani mi sembra ci siano dodici quattordici pagine dedicate alla guerra la stampa è lo stesso ma anche eh domani dedica moltissime pagine anche il foglio dedica enorme attenzione quindi una percentuale che più o meno quella dei due terzi alla alla guerra le ragioni sono le più diverse la più banale se volete la più prosaica è che quelle pagine devono essere riempite siccome questo è il tema che domina l'agenda informativa italiana e quindi gioco forza in un sistema di circuito virtuoso perverso anche l'attenzione del pubblico eh i giornali tendono a dare al pubblico quello che al pubblico interessa o viceversa ma poi c'è una seconda un secondo punto è che lo vediamo dai dati d'ascolto i talk show almeno nei primi nelle prime settimane senza altro ma io direi nel primo mese e mezzo che si occupavano e si occupano perché ogni sera noi abbiamo due tre talk show che si occupano principalmente da quella in Ucraina fanno buoni ascolti questi sono processi che abbiamo sperimentato sempre con i grandi eventi è successo anche col covid la la anche per ragioni lockdown insomma i consumi televisivi ma anche nei talk show radiofonici e sui giornali sono aumentati sono aumentati in tutto in tutta la panoplia diciamo degli del dei media e eh perché il pubblico chiedeva quelle notizie quindi i giornali italiani tendono a dare al pubblico quello che si aspettano che il pubblico voglia ricevere e quindi moltiplicano le pagine gli spazi eh che si occupano di di guerra come lo fanno perché poi questa è la vera domanda che mi ponevi qui secondo me bisogna distinguere fra i vari media tra i quotidiani la televisione la radio e la rete ma sulla rete forse poi dedicheremo attenzione diversa ora io tendo a essere meno severo insomma quando parliamo al di là di questo podcast quando parliamo io e te tu tendi ad avere un atteggiamento sempre molto severo e pessimista rispetto alla stampa italiana io tendo ad essere un po' più ottimista forse perché sto qui dentro faccio faccio giornalista poi bisogna distinguere molto i singoli quotidiani quello che mi sento di dire è che a mio avviso alcuni quotidiani italiani stanno facendo un ottimo lavoro eh qui ne cito tre o quattro Corriere della Sera la stampa mi avviso avvenire domani anche il foglio gli altri quotidiani anche Repubblica che pure ha spesso delle interviste di grandissima qualità Repubblica tende ad essere insomma si è a mio avviso molto schierata poi legittimamente o meno questo non spetta a me dirlo e quindi è un giornalismo in questo momento un po' più partigiano di quello che fanno gli altri anche Corriere della Sera una posizione molto orientata ma a mio avviso ha un'articolazione di posizioni e di punti di vista molto ricca il Corriere della Sera a mio avviso sempre sta facendo un lavoro eccellente in questa guerra e mi permetto di dire che persino le mondo o il paese o il Guardian hanno una ricchezza di posizioni di sguardi una varietà di inviati inferiore al Corriere della Sera e anche la stampa e qui tocco subito l'argomento che tu suggerivi cioè l'emotività dell'informazione italiana ecco questo è il vero punto forse dolente ma che riguarda di qui il passaggio a un altro medium la televisione soprattutto la televisione il nostro e il giornalismo italiano è un giornalismo che è più emotivo che analitico qui sì davvero il New York Times il Guardian le mondo i giornali tedeschi alcuni giornali spagnoli tendono a avere un modo di raccontare i fatti che mette l'analisi dei fatti al primo posto e poi il racconto emotivo corazzate come il New York Times fanno entrambi benissimo cioè c'è l'analisi militare geopolitica e poi c'è una quantità di storie racconti emotivi straordinari ma il New York Times cioè il giornale più importante del mondo almeno credo e altri il Le Monde punta molto sull'analisi e meno sull'emotività noi facciamo il contrario i talk show italiani sono pieni di storie pieni di racconti e l'analisi tende a essere sempre avversariale cioè schierare due parti una contrapposizione come il vecchio modello di Ballarò perché è una dinamica che in televisione funziona che però fa pagare un prezzo e immagino che tu su questo voglia voglia aggiungere delle considerazioni un prezzo in termini di comprensione razionale dei fatti l'osservazione razionale di quello che accade questo in televisione è evidente sui giornali il racconto emotivo penso a quello che fa ad esempio Francesca Mannocchi che fa sia in televisione sulla 7 sia da noi alla radio su Radio 1 sia sulla stampa con degli articoli a mio avviso bellissimi ma lo fa Marta Serafini sul Corriere della Sera lo fa su Repubblica Steinman ad esempio che è entrato secondo me con un reportage straordinario dentro l'acciaieria dove sta la brigata Azov e ovviamente lì è un racconto di un'emotività altissima fortissima quella è una cifra del giornalismo italiano verso la quale sulla quale io non riesco a emettere un vero giudizio cioè io penso che ad esempio i racconti della della Mannocchi che sceglie una chiave narrativa siano molto belli non me la sento di di certo poi ti spingono su posizioni ti spingono a prendere una posizione rispetto alla guerra forse sì perché è anche la scelta che fa il Tg1 ad esempio che fa un racconto collettivo sul quale magari torneremo composto del racconto dei giornalisti professionali ma anche di video che magari hanno girato gli ucraini che vengono messi assieme certo c'è una fortissima componente emotiva e poi io mi chiedo e qui davvero non so che risposta dare è giusto far vedere quei racconti far vedere le immagini dei morti perché si è aperto un dibattito molto interessante all'interno ad esempio del sindacato giornalisti del della mia categoria che perché alcuni lamentano il fatto che non dovremmo far vedere le immagini dei morti non dovremmo far vedere le immagini dei bambini le immagini delle donne e io sinceramente lì non so che posizione prendere perché orientano il fruttore e poi rischiano di assuefare il fruttore questa è una questione che tu ti ponevi non lo so io qui davvero non so che che posizione prendere la radio poi anche qui bisogna distinguere molto perché noi alla radio anch'io al giornale radio cerchiamo di separare diciamo i fatti dalle opinioni però poi è difficilissimo farlo perché tutto si intreccia radio 3 ha una narrazione un po più distante rispetto a quella di radio 1 che anche gli ascoltatori quindi è un racconto collettivo in cui però la componente emotiva è molto presente chiudo su un punto il la questione è che il giornalismo italiano è un giornalismo partigiano fazioso emotivo più di altre tradizioni giornalistiche quindi quello che accade nel nostro paese in ultima analisi qui chiudo non ci deve sorprendere ma tu hai messo insieme molte cose e le hai messe insieme a ragione perché sono collegate però vorrei isolare tre parole su cui vorrei andare un pochino più in profondità tu hai parlato di soggettività hai parlato di emotività e hai parlato di partigianeria allora cominciamo con quest'ultima noi abbiamo fin qui parlato dell'informazione dal punto di vista dell'utente ma dal punto di vista di chi combatte la guerra l'informazione è uno strumento bellico no come sa bene anche Zelensky che ha usato straordinariamente bene l'informazione in questo periodo e certamente è arrivato alle opinioni pubbliche di molti paesi attraverso il messaggio messaggio che però arriva da tante fonti ci sono appunto filmati che arrivano attraverso il cellulare da parte di delle persone più diverse ci sono fake news ecco la partigianeria del giornalista fino a che punto è ammissibile cioè il giornalista in un certo senso avrebbe il dovere di tirarsi fuori dal conflitto e di raccontare ciò che vede perché se invece è parte di questo conflitto e si sente come dire parte di una missione salvifica anche se sta dalla parte buona forse rischia diventare strumento di propaganda e non è più questo il compito il giornalista o sbaglio questa è una questione enorme io ricordo che nei manuali di giornalismo veniva sempre citato un caso vado a memoria quindi potrei sbagliarmi sul riferimento bellico ma mi pare riguardasse la prima guerra mondiale se non la guerra civile americana ma mi sembra più difficile perché i tempi del giornalismo americano erano lentissimi perché ovviamente eravamo agli albori della stampa però è del caso di un cronista che stava sul ciglio di un fronte di guerra e vede avanzare cronista americano e vede avanzare le forze nemiche e si domanda che devo fare perché poi questo è credo sia un fatto veramente verificato sì e si domanda devo stare qui e vedere con i miei occhi per poi raccontare ai miei lettori l'avanzamento delle forze vietà ma addirittura dell'avanzamento delle forze avversarie o devo correre dal mio esercito per avvertirli che stanno arrivando i nemici questo ovviamente è un caso macroscopico di quello che rischia di fare il giornalismo oggi l'altro giorno guarda giuseppe sarò il più pratico possibile gli ascoltatori mi chiedevano siccome a radio anch'io io ho provato a porre la domanda che ci stiamo ponendo in questo in questo incontro come stiamo raccontando la guerra e abbiamo invitato vari interlocutori che hanno avuto delle idee delle opinioni molto diverse c'era sempre giuliana sgrena che insieme a altri vecchi inviati di guerra aveva una posizione molto critica c'era massimo giannini direttore della stampa che invece raccontava perché fanno si fanno certe scelte ma insomma il punto è che gli ascoltatori ci domandavano ma qual è la vostra linea editoriale rispetto a questa guerra mi sono confrontato con andrea vianello e abbiamo convenuto su un punto contestabile giuseppe non lo metto in dubbio che è il seguente noi dobbiamo essere i più neutrali oggettivi possibili far parlare i nostri inviati che sono sul campo vedono le cose con i loro occhi incontrano le persone parlano con le fonti ma poi non possiamo scordare che in questa guerra c'è un aggressore e c'è un aggredito ora tu mi dirai sì ma che significa questa frase anche qui ci riporta su un terreno emotivo cioè che da un certo punto di vista uso un'espressione molto corriva facciamo il tifo punto interrogativo ci auguriamo che gli ucraini sconfiggano i russi e quindi come giornalisti non riusciamo a liberarci di queste lenti cioè il fatto che noi parteggiamo per gli ucraini ecco questo è un errore cioè che istintivamente che rischiamo tutti di commettere anche io personalmente non lo nascondo cioè in questa guerra trovo la prepotenza dell'aggressore russo come ha detto il nostro presidente della repubblica per il 25 aprile c'è un prepotente che è aggredito c'è un popolo che è che appunto vittima di quella aggressione è difficile liberarsi di queste lenti però il giornalismo professionista e gli anglosassoni da questo punto di vista sono io penso più la bbc e più gli inglesi degli americani perché gli americani se vai a leggere la stampa persino il grande new york times nel rapporto con la cina nella descrizione della cina e della russia ha un bias una distorsione che è quasi pregiudiziale però il punto è che è molto difficile sgombrare liberarsi di questo bias di questa distorsione di questo pregiudizio ma uno è un professionista ed è un giornalista proprio per questo cioè è un giornalista è un professionista perché deve nei limiti del possibile liberarsi dei pregiudizi che lo spingono a raccontare un fatto e a leggere soltanto e a dare ascolto soltanto a certe fonti ora non ho né voglia né desiderio né penso di poter giudicare quello che sta accadendo ad esempio all'interno della mia azienda rispetto a voci a sguardi a occhi che sono sembrati parteggiare per una parte mi riferisco a corrispondenti da dalla russia da mosca che hanno messo un po in crisi la nostra la nostra azienda è una questione che riguarda la stampa che però quando non è servizio pubblico se la può porre in una maniera un po più libera cioè se repubblica sceglie di avere un punto di vista di essere partigiana essendo un giornale privato legittimamente può farlo come lo può fare qui nella sera un'altra cosa è per quel che riguarda la rai o la bbc e la bbc è stata anche accusata ad esempio di essere più volte partigiana di aver preso una posizione sulla brexit perché poi questo riguarda la guerra ma riguarda qualsiasi argomento anche sulla politica però capisco il l'obiezione che tu poni il rischio di essere strumento di propaganda e di ascoltare solo le fonti ucraine anche perché noi abbiamo più fatti facciamo più fatica a cercare fonti russe dare voce a quella che per noi è solo propaganda mentre c'è propaganda anche da parte americana ovviamente come ogni conflitto c'è propaganda da parte ucraina anzi c'è in maniera forte aggressiva persino da da fonte ucraina però è molto difficile dovere di un giornalista è cercare ecco di allora io non credo che sia possibile liberarsi dai propri pregiudizi soprattutto in un in un conflitto però il nostro dovere secondo me è un altro è quello del pluralismo cioè di fronte a un fatto cercare sempre di abbeverarsi a più fonti cioè raccontare quel fatto anche dal punto di vista russo faccio un esempio oggi ho visto la conferenza stampa a mosca dopo l'incontro tra guterres lavrov il punto di vista non coincidevano però il nostro dovere è anche ascoltare lavrov dare conto di quello che dice lavrov e eventualmente fare un'operazione di validazione di quello che dice lavrov ma anche di quello che dice guterres e di quello che dice blinken e di quello che dice biden e di quello che dice austin cioè questo credo sia il nostro dovere giuseppe a proposito di pluralismo abbiamo chiesto a marina lalovic giornalista della redazione esteri rai news 24 di raccontarci la sua esperienza nei primi giorni del conflitto come corrispondente da mosca ecco che cosa ci ha detto una delle esperienze che mi rimarrà senz'altro impressa dalla guerra in corso in ucraina è l'esperienza che ho avuto in prima persona da inviata per un brevissimo periodo di circa tre giorni a mosca all'inizio di marzo la particolarità di quella esperienza è stata quella di atterrare nella capitale russa proprio il giorno in cui una gerata legge contro le fake news è entrata in vigore in russia una legge con la quale si rischiavano con le quali tutt'oggi si rischiano fino a 15 anni di carcere un'altra particolarità dell'arrivo del mio arrivo a mosca era il momento in cui molte molte sedi dei corrispondenti esteri chiudevano in particolar modo colpiva la decisione della bbc che per la prima volta dalla seconda guerra mondiale decideva di chiudere la propria sede per la impossibilità di effettuare il lavoro giornalistico in maniera appropriata proprio a causa dell'entrata in vigore di questa legge e dunque potete capire la difficoltà con la quale uno si preparava magari di fare una diretta nel momento in cui una legge che non definiva bene tutt'oggi non definisce bene quello che si intende per il concetto delle notizie false le cosiddette fake news e di conseguenza il concetto chiave era quello di non utilizzare la parola vaina ovvero la guerra in russo ma quello che tutt'oggi viene ripetuto come un mantra dal cremlino ovvero la operazione speciale militare il maggior dubbio e maggior diciamo la maggiore difficoltà era quella di raccontare la percezione soprattutto quello che si poteva insomma raccogliere documentare nelle ore in cui eravamo lì e non appunto cadere nella trappola della cosiddetta autocensura per essere in linea di questa nuova legge dunque un equilibrismo non facile e soprattutto partendo dal dal concetto che appunto si doveva raccontare un conflitto senza utilizzare la parola chiave ovvero la guerra e dunque a questo punto si decideva insomma di per così dire parafrasare il concetto della guerra così come chiama il cremlino la guerra ovvero la operazione speciale militare e raccontare innanzitutto la percezione della città in cui stavamo Mosca che nel mio particolare caso mi ricordava moltissimo la mia città di origine degli anni 90 a Belgrado la città spetrale dove si cercava di simulare una specie di una assurda normalità dove non c'erano le immagini assolutamente della guerra qualcosa che già era molto presente per esempio a Roma sia entrando nei bar nei ristoranti con degli schermi televisivi dove il conflitto era ormai onnipresente questo aspetto e del tutto mancava per esempio paradossalmente nella principale protagonista nella città protagonista di questo conflitto ovvero Mosca dall'altra parte un'altra immagine che si cercava di raccontare quella dell'esperienza che si è avuta con delle persone che facilitavano il nostro lavoro in quel momento ovvero questa necessità di lasciare la città dunque se dovessi dare un titolo a quelle 48 ore a Mosca sarebbe sicuramente la fuga da Mosca e ora torniamo alla conversazione con Giorgio Zanchini liberarsi dei propri pregiudizi secondo me è possibile a partire dalla consapevolezza di averli i pregiudizi noi abbiamo ospitato all'auditorium di Roma una bellissima lezione di Andrea Graziosi che raccontava diciamo come dietro all'invasione russa ci sia un'ideologia noi spesso sentiamo oscillare il giudizio su Putin tra il pazzo e il criminale non necessariamente deve essere pazzo o criminale magari lo è ma diciamo basterebbe capire l'ideologia l'ideologia come dire sedimentata nell'establishment russo che Putin rappresenta e da questo punto di vista questo aiuta a liberarci diciamo da un pregiudizio quantomeno a capire per esempio che forse noi occidentali siamo illusi che la storia fosse mossa solo dagli interessi quindi bastava trafficare coi russi scambiare fare affari e sarebbero rabboniti no la storia dentro la storia c'è una componente ideologica e culturale fortissima per cui non so come la pensi su questo ma bisogna sempre tenere presente che anche se io faccio business con qualcuno se quello rimane imbevuto di un'ideologia totalitaria questo pesa comunque io su questo sono d'accordissimo anzi il fatto che tu abbia menzionato Andrea Graziosi mi fa dire che forse nostro dovere e io ho cercato di farlo nel piccolo di Radio Anch'io è rivolgerci ai veri competenti che ovviamente sono anche geopolitici qualche volta persino giornalisti però Andrea Graziosi è quello che ha fatto nel suo intervento a Radio Anch'io cioè ci ha rimandato alla storia anche alla storia delle ideologie e quindi alla componente ideologica nelle scelte di un gruppo dirigente nella fattispecie quello moscovita quello del creminino ecco forse il nostro compito è di fronte al rischio da un lato della propaganda dall'altro del pregiudizio dall'altro della partigianeria è quello di provare a rivolgersi anche se qui insinuo subito un dubbio perché persino gli storici hanno i loro pregiudizi quindi nel raccontare i fatti e la storia e descrivere un gruppo dirigente corrono seppur meno di noi lo stesso rischio però ecco rivolgerci ad Andrea Graziosi o a Cella che è un altro studioso di Ucraina molto attento però ad esempio Giuseppe sarò molto franco quando ho rivolto la stessa domanda a Franco Cardini che non è uno specialista come Andrea Graziosi dell'Europa orientale del Novecento che è però un insigne storico ha dato una descrizione completamente diversa a quella di Graziosi quindi capisci che è sempre molto difficile questo ma non c'è dubbio d'altra parte non credo che neanche Graziosi pretenda di avere la verità io credo che tutti noi siamo alla ricerca e tornando un attimo a quello che tu mi hai detto prima hai detto una cosa molto interessante a proposito di linea editoriale cioè hai parlato della fatica di trovare una linea editoriale e hai parlato appunto di soggettività ora una delle cose che di cui ho l'impressione ma su cui ti chiedo conferma rispetto al panorama dell'informazione vent'anni fa o trent'anni fa oggi l'informazione è molto più personalizzata cioè si segue una persona specifica più che l'editore voglio dire i podcast di Cecilia Sala, di Mia Ceran ma anche appunto le corrispondenze di Francesca Mannocchi che tu hai citato dicono che c'è una prevalenza molto forte della soggettività piuttosto che della testata mi sembra e quindi anche questo ha a che fare con il tema della linea editoriale seguiamo una persona che ci sembra affidabile perché poi questo è l'altro punto nel giornalismo mi verrebbe di dire come in politica finite le ideologie l'affidabilità è molto personale è così? Questa è un'altra questione gigantesca devo dire che io faccio Mia la descrizione che tu hai fatto all'inizio di questo nostro incontro del modo in cui ci informiamo ma soprattutto di che cosa è diventata l'informazione quello che alcuni studiosi insigni come Carlo Sorrentino definiscono il mondo flusso dentro il quale ciascuno di noi è inserito che ci permette di essere istintivamente e attraverso i nostri smartphone transmediali, crossmediali, convergenti attivi perché noi stiamo dentro e immettiamo noi stessi contenuti in questo flusso informativo guarda ti cito solo per aggiungere degli elementi al quadro già complesso che stiamo cercando di disegnare due interessanti ricerche che ho qui davanti una fatta dall'SVG su come noi ci stiamo informando in questa guerra e quello che mi fa impressione perché ti cito le percentuali delle prime quattro fonti 71% programmi televisivi 35% social network 32% quotidiani 31% ricerca libera sul web e poi si scende ma il dato che fa più impressione è che nella generazione Z quella nata tra il 97 e il 2012 il 70% si informa sui social network questo ci dice che i social network vabbè hanno l'importanza che sappiamo è inutile che ci torni sopra ma che i social network sono quel luogo dove il fruttore immette contenuti ricicla contenuti ramifica contenuti e lui stesso contribuisce a comporre quel flusso informativo che poi appunto definisce il modo in cui noi guardiamo i fatti a questa guerra e poi c'era un altro dato molto preoccupante che rimandava e poi arrivo su quel punto che tu suggerivi sui contentent creators li chiamano gli studiosi cioè coloro che contribuiscono a dare informazioni personalizzate al fruttore c'era un intervento sul domani il quotidiano che rimandava a quello che sta accadendo al giornalismo oggi preoccupante perché dico questo? ti leggo il titolo dell'intervento di Andrea Daniele Signorelli il giornalismo di qualità è diventato un privilegio delle elite perché che cosa sta succedendo? che sempre più i grandi organi di stampa stanno lavorando su prodotti di qualità a pagamento con il paywall per cui coloro che hanno il privilegio di leggere grandi reportage grandi articoli grandi analisi rischiano di essere pochi perché costano questi abbonamenti all'informazione di qualità mentre la grande massa delle persone si informa principalmente sui social network e sulla televisione generalista di cui anche diciamo la responsabilità che riposa attorno al servizio pubblico ma torniamo sul tema che suggerivi tu e che devo dire io quando mi confronto con giornalisti più giovani insomma in contesti universitari o in contesti specialistici tipo l'ordine dei giornalisti mi rendo conto che è crescente che sfugge uno che insomma oramai è un'età altra tarda come la mia e cioè come dicevi tu ci sono molte persone che hanno come prima fonte di informazione un podcast che so di Francesco Costa sul post di Francesca Mannocchi su altri altre piattaforme cioè si affidano nella loro comprensione dei fatti italiani o del mondo a una singola voce perché questo è quello che sta accadendo cioè si creano nuovi filtri si rompe di qui anche di nuovo la mia sottoscrizione della tua introduzione sul sistema mediatico contemporaneo si rompe la gerarchia che abbiamo conosciuto io e te ad esempio cioè persone che hanno più di 50 anni nel novecento che veniva definita dal telegiornale della sera dal giornale radio del mattino dall'impostazione che dava ai fatti un quotidiano e la ricomponiamo noi affidandoci ad altre voci che possono essere l'amico sui social media la mia chat su whatsapp o voci sperabilmente professionali sui podcast per cui in realtà questa grande rottura crea non tanto bolle secondo me ma nicchie la speranza è che il consumo e l'uso di queste nicchie sia il più ampio e pluralistico possibile ma questo costa fatica costa fatica e noi esseri umani sappiamo come siamo fatti costa impegno costa studio costa soldi qualche volta quindi in realtà e chiudo su questo le nostre possibilità oggi si sono moltiplicate le fonti rispetto a quando io e te eravamo ragazzi si sono moltiplicate e arricchite e a mio avviso democratizzate però necessitano di impegno oppure e di impegno e di un'altra cosa e di alfabetizzazione informativa e quello è un progresso che possiamo portare avanti soltanto se ci impegniamo nella scuola nelle famiglie e in luoghi che possono essere ad esempio quegli incontri che voi organizzate cioè dei luoghi in cui si insegna a informarsi altrimenti è veramente difficile avere una conoscenza dei fatti minimamente adulta mettiamola così ma io sono assolutamente d'accordo credo che la scuola sia fondamentale in generale credo che dobbiamo fare una formazione continua diciamo la conoscenza critica e l'informazione ne è parte fondamentale devo dirti che il modo in cui tu ci hai raccontato hai parlato dell'informazione è consentimi di dire è un grande insegnamento perché non c'è un modo solo di guardare le cose tu ci hai restituito appunto la complessità dei fatti ognuno di noi appunto è come dire parziale e da questo punto di vista vorrei chiudere con una domanda molto semplice in questo panorama informativo che ci hai raccontato che ha anche dei rischi come ci hai detto di privilegi di chi può informarsi di più o meglio tu prima ci hai detto io vivo in una esposizione continua perché ho da una parte i telegiornali i giornali online i blog continuamente vengono ma una persona che ha meno tempo che ha poco tempo per informarsi perché deve dedicare la gran parte della sua vita ad altre cose al lavoro agli affetti che cosa può fare per cercare di non essere troppo unidirezionale cioè di non vivere appunto in una piccola bolla in cui gli arrivano solo le informazioni di un certo tipo che cosa consiglieresti diciamo a una persona oggi che voglia capire che cosa sta succedendo in un mondo appunto così complicato e al tempo stesso non essere soltanto appunto non guardare soltanto da una parte non essere troppo condizionato dai propri pregiudizi diciamo è una risposta difficile però vorrei chiudere con un consiglio anche a chi ci ascolta guarda qui Giuseppe vado davvero per tentativi nel senso che io rischio di dare una risposta conservatrice perché dico questo perché io ho figli adolescenti e mi rendo conto l'altro giorno abbiamo fatto un viaggio insieme a queste due figli adolescenti e abbiamo parlato della guerra della guerra in Ucraina e mi sono reso conto che loro avevano delle lacune non voglio sembrare un piscato ma sono un padre troppo severo delle lacune e delle carenze informative spaventose cioè enormi perché avevano una scarsissima conoscenza della storia del novecento e qui la responsabilità riposa un po' forse nella loro pigrizia ma anche nella pigrizia ai genitori ma anche nella scuola e ogni tanto mi rendo conto che loro sanno una serie di cose e domando loro mi dite dove l'avete letta questa cosa qui come vi imbattete nelle notizie mi sono reso conto che loro principalmente si rivolgono ai social e per social io intendo soprattutto Instagram TikTok loro ad esempio non frequentano Facebook ma è soprattutto dalla rete che ricevono le notizie anche dalla rete di amici perché rischio di dare una risposta conservatrice perché un modo di informarsi così rapsodico così casuale così inintenzionale perché poi questa è la parola chiave secondo me i nostri processi di ricerca dell'informazione il tuo e il mio le nostre generazioni erano intenzionali noi andavamo in edicola compravamo un giornale accendevamo la televisione la sera magari perché i nostri genitori perché poi molti comportamenti si ereditano dalla famiglia in cui vivi e cresci accendevamo la radio oggi loro invece si imbattono spesso in modo casuale nelle notizie attraverso le notifiche per questo dicevo il quotidiano il telegiornale della sera il giornale radio del mattino sono degli straordinari lo diceva Son Rosa ma in realtà lo copiava da Hegel uno straordinario sistema organizzativo perché mette in ordine le cose certo poi con dei criteri con delle posizioni politiche con degli orientamenti ma insomma da un ordine ti aiuta io proprio per il principio della complessità dell'esistenza della divisione del lavoro della divisione del tempo della limitatezza delle nostre giornate ho bisogno credo l'essere umano per come è fatto di qualcuno che metta ordine rispetto al caos di impulsi notifiche notizie informazioni che io ricevo e noi che siamo cresciuti nel novecento riponevamo fiducia in quegli strumenti tradizionali il quotidiano il telegiornale il giornale radio oggi questo quadro si è parcellizzato decostruito frammentato io tendo a dare un quadro un giudizio severo rispetto a questa frammentazione e qui rischio davvero di essere un po' conservatore perché mi rendo conto che quando invece mi misuro con giovani colleghi venticinquenni trentenni mi rendo conto che loro hanno un modo completamente diverso dal mio di formarsi ma non qualitativamente inferiore è semplicemente diverso loro appunto attraverso dei podcast che hanno incontrato nei modi più disparati certo sono giovani giornalisti quindi è ovvio che siano più informati della media della popolazione però hanno un modo di informarsi che prevede ad esempio una scarsissima lettura del quotidiano cartaceo o spesso una nulla lettura del quotidiano cartaceo però non è che stiano meno informati di me sono informati in modo diverso molto forse più orizzontale per rubare quella metafora al libro che abbiamo scritto con Giovanni Solini per la casa elettrice però in realtà non è qualitativamente inferiore mi preoccupa invece il cittadino comune che non fa questo di lavoro che non fa questo di mestiere perché secondo me senza dei filtri affidabili rischia un po' lo sbandamento questo lo dico rischiando appunto di commettere degli errori valutativi però il rischio dello sbandamento di una lettura superficiale dei fatti anche dal punto di vista materiale cioè temporale dedico poco tempo alla formazione quindi la scelta dei filtri è decisiva chi ti insegna a scegliere i filtri giusti questa è la domanda sulla quale secondo me dobbiamo chiudere e questo di nuovo rimanda alle agenzie informative formative chi ti aiuta a scegliere i filtri giusti qui chiuderei con la funzione dei mediatori tradizionali una casa editrice e un editore è un mediatore tradizionale un giornalista è un mediatore ma i partiti la politica e il sindacato tutti sono mediatori la scuola è e la famiglia sono i mediatori per eccellenza secondo me se non c'è un investimento lì è molto difficile per chi non ha il privilegio professionale o di curiosità personale di voler cercare i filtri giusti solo lì noi possiamo insegnare alle persone a trovare i filtri giusti poi si possono trovare anche da soli casualmente però non è tanto semplice secondo me Giuseppe ecco ma però quello che tu dici mi sollecita allora un'ultima davvero domanda trovare i filtri giusti vuol dire anche diciamo che chi fa il filtro si conquisi la fiducia sì recentemente ilvo Diamanti su Repubblica ha scritto che molti italiani un italiano su quattro di fida dei media italiani appunto rincorre altri modi di informarsi ma come fa un giornalista a riconquistarsi questa fiducia la validazione di cui tu parlavi prima per esempio il fatto di dire a una persona che viene in televisione e che dice la spara grossa e ne sentiamo tutti i giorni no non è così i dati dimostrano che quello che lei sta dicendo è sbagliato è rarissimo è rarissimo io sento il giornalista che passa la domanda successiva se non ha come dire non ha elementi o non se la sento non ha voglia o è faticoso ma io credo che per esempio un contraddittorio serio sulla base di dati di argomenti beh questo creerebbe fiducia come io visto che tu hai fatto questo paragone nel piccolo della casa editrice il fatto che noi abbiamo pubblicato negli ultimi anni i libri con opinioni molto diverse tra loro mi viene in mente l'ultimo libro di Sabino Cassese che si chiama Il governo dei giudici con giudizi durissimi sui giudici beh noi siamo anche l'editore che ha pubblicato i libri di tanti magistrati in cui l'operato dei giudici è stato difeso io credo che la credibilità della casa editrice aumenti non diminuisca per il fatto che pubblichiamo dei libri naturalmente speriamo tutti seri su questi argomenti ecco come fa un giornalista a conquistarsi la credibilità che lo rende quel filtro efficace di cui tu parlavi guarda qui do una risposta diciamo di natura strutturale una risposta più contingente la risposta il tentativo di comprensione di argomentazione rispetto alla tua domanda lo rubo al discorso che ha fatto l'altro giorno Barack Obama a Stanford all'università perché lui ha detto io ho sbagliato non ho capito per tempo quanto l'universo social e la rete e qui entreremo in un campo difficilissimo la rete non governata chiamiamola così anche perché di strettissima attualità Giuseppe lo sai meglio di me l'acquisto credo riuscito e che riuscirà di Elon Musk di Twitter che trasformerà Twitter poi lo toglierà dalla borsa e trasformerà Twitter di nuovo in una piazza in cui chiunque può parlare quindi Donald Trump tornerà su Twitter se ci vuole tornare perché nel frattempo si è aperto un altro social mentre dopo quello che è successo a Capitol Hill in realtà i grandi social avevano deciso di introdurre per così dire dei filtri rispetto a coloro che corrodevano la democrazia dall'interno secondo me poi una democrazia forte poi lo so che tu su questa è una posizione molto liberale è forte a sufficienza anche perché permette a tutti di dire la propria ma non ha torto Barack Obama quando diceva che i social hanno liberato aperto ma hanno anche reso più vulnerabili le nostre democrazie e quindi in qualche modo la corrosione che rimanda a quello scetticismo di fondo che c'è in tutte le democrazie occidentali rispetto al racconto mainstream al racconto dei fatti è e quindi qui l'aggettivo strutturale è secondo me un elemento con il quale dobbiamo fare i conti difficilissimo da affrontare difficilissimo da affrontare perché poi rimanda la censura la libertà di espressione il secondo punto invece è quello che tocchi tu cioè più contingente perché si può lavorare su quello e cioè la responsabilità dei giornalisti perché Francesco Costa e Francesca Mannocchi sono così seguiti perché sono dei giornalisti che fanno bene il loro lavoro in maniera fattuale o documentale come fa Francesca Mannocchi o molto fattuale come fa Francesco Costa ma tanti altri ne potete citare cioè basandosi sui numeri perché il giornalismo a Crosassone è pur sempre un esempio e la BBC in questo perché come dici tu quando il politico o che so l'uomo d'impresa dice una cosa quello c'ha la documentazione o la preparazione individuale per obiettare quello che sta dicendo lei è falso da noi per una serie di ragioni credo anche la debolezza del giornalismo italiano per ragioni economiche industriali di se vuoi anche di cortigianeria e fragilità della professione impedisce o anche migliaccheria impedisce o ha spinto a evitare questo tipo di giornalismo fattuale di verifica e validazione ma su questo secondo me si può lavorare le figure che ho indicato ma tante altre di giovani bravi potrei indicarne si conquistano la fiducia in rete perché sono dei professionisti veri dei professionisti seri ed è qui che deve lavorare un giornalista ma un giornale una televisione una radio purtroppo e qui chiudo la dinamica avversariale nei talk show e quindi quel sistema un po' c'altronesco da commedia dell'arte che abbiamo noi italiani non aiuta guarda Fumaroli che insomma è un grande studioso francese studioso delle idee e della cultura lo diceva te sempre me l'ero segnato da una parte perché usava un'espressione ecco la televisione italiana quando lui veniva in Italia e la guardava gli sembrava un'opera buffa Giuseppe bene non so se vogliamo chiudere sull'opera buffa ma certamente se è un'opera buffa tu l'hai descritta in maniera invece molto seria molto articolata con grande rispetto e molta attenzione perché poi dobbiamo sempre ricordarci che quello che noi critichiamo poi è una realtà che in tanti paesi non esiste o esiste pochissimo esiste con enormi difficoltà quindi tanto ti amoci cara l'informazione che noi abbiamo in Italia che è fatta da tanti professionisti da grandi aziende ti ringrazio molto Giorgio perché come pensavamo ci hai portato molta luce naturalmente portando luce hai fatto vedere anche gli angoli bui ma quelli ci sono sempre in qualunque attività l'informazione è un'attività faticosissima che richiede grandi energie grandi investimenti personali psicologici emotivi intellettuali culturali oltre che naturalmente anche economici non da poco e credo che così come la scuola che tu hai citato le società più civili sono quelle che si rendono conto di quanto l'informazione sia un bene prezioso è un bene che necessita di professionalità e tu la dimostri ogni giorno col tuo lavoro ma anche di consapevolezza diffusa cioè dobbiamo essere tutti in qualche modo attenti a come informiamo come ci informiamo e come trasferiamo l'informazione soprattutto appunto in un'epoca in cui siamo tutti potenziali erogatori di informazione attraverso i video che mandiamo in giro attraverso le notizie che diffondiamo in rete eccetera è stato una veramente molto interessante attraversamente viaggio in questa informazione così complicata durante la guerra ti ringrazio molto e diamo appuntamento a tutti al prossimo podcast di radar della casa editrice La Terza post produzione e musica a cura di Matteo Portelli a cura di Matteo Portelli